Adesso dobbiamo lasciare la parola a te Giovanni, che so sei emozionato anche tu, ma sicuramente hai voglia di raccontarci qualcosa. Andiamo a fare qualcosa, meglio forse. Viviamo dopo, aspettiamo ancora un po', vedrai che il tempo tiene. Sono fortunato, avere un amici così, una moglie così. Grazie. Cosa mi racconto? Eh, penso sia, insomma, mettiti dal posto mio. Sono in uno spazio straordinario, sono stato invitato da Luisa, dalle sorelle, da Luisa in particolare, che si è instaurato un apporto molto bello di amicizia. Il mio collega, collega di Merende, Andrea, vi ha raccontato un po', è stato per fortuna frenato, perché certe cose non dovete saperle. Ma è un maestro di vita, da Marrakesia al sud della Francia, stiamo cercando di farsi largo. Sapete che non è un periodo straordinario questo nel lavoro, nel mondo del lavoro. Però forse dà l'opportunità, anche questa, quelle che chiamano crisi, dà l'opportunità di riuscire a trovare spazi nuovi, a inventarsi qualcosa di nuovo. E con Andrea, che sa fare, secondo me, commerciale molto bene, e al di là di un aspetto economico, sa, secondo me, valorizzare a parole molto bene quello che lui sente, prima di tutto, che è una cosa fondamentale, perché l'arte, condivido, è emozione, non ha senso. Adesso sempre di più diventa investimento economico, ma l'arte nasce come emozione, deve piacere. Una persona decide di comprare un oggetto che, fra virgolette, non serve a niente, se non è il proprio spirito. Ci sarà un motivo, perché uno compra una scultura, compra un quadro, compra un cd, una seduta, questo è un cubo, ci si siede, si sta bene. Ma la scultura non serve, non si indossa, non si... un quadro non lo puoi... Quindi pensate la bellezza per un artista, per uno che fa il mio lavoro. Vendere una cosa che, fra virgolette, non serve a niente, però far star bene una persona. È una cosa... è una cosa incredibile, no? Che costi 10 euro, che costi 1000 euro, 11.000 euro, è la stessa cosa. Non so, io mi sono emozionato, perché non sapevo di essere così bravo. No, dai, ognuno nel proprio lavoro, penso che, ognuno nel proprio lavoro, se è appassionato del proprio lavoro, penso che cerca in tutti i modi di mettere se stesso dentro, no? Occupiamo almeno un terzo della vita a lavorare, quindi almeno proviamo a metterci qualcosa. Avete qualche curiosità? Mi piacerebbe rispondere, mi piacerebbe, forse diventa più stimolante, perché loro hanno raccontato delle cose che io anche non sapevo, quindi... Volentieri, avete qualche curiosità? Se io continuo, vi stufo proprio, speriamo che piova, così andiamo dentro. Eccolo là! No, penso sia forte quello che ha detto relativamente al Sufi, nel senso che ognuno penso che nella propria vita, specialmente in questa età fisiologica di 40 anni, ci sono dei cambiamenti. Uno si chiede cosa ci sto a fare qua, che senso ha la mia vita, e quindi provo a fare una ricerca, ognuno trova, penso, la propria strada. In questo caso, una cosa per me importante è stato conoscere, attraverso un insegnante, un maestro, una filosofia, che è quella della danza Sufi, ecco. Me ne sono appropriato, perché trovo che, o provo appropriarmene, perché penso, cazzi, cazzi, bene alla mia personalità, che poi il Sufismo porti a un equilibrio. Per chi mi conosce, non è sempre così, ecco. Quindi, sì, beh, vi ha spiegato le cose in modo, io non sarei stato capace di dire, di dire, di, 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 non so, di dire questa cosa, come ha fatto lei, ecco. Mi sono cari, è chiaro, gli aquiloni, vorano, sono di ferro, vorano, insomma, mi è cara quella figura, la che vi ha spiegato, perché siamo stati anche in crisi, la barchetta di Laila, la dorata, così. Poi dentro trovate altre cose, vedrete altre cose, e sono in mezzo a queste cose qui, a queste sculture che ho fatto. E, allora, altro? Grazie. La tua prossima opera? Ce la racconti? Eh... So che non ti piace parlarne, ma mi hanno detto che c'è qualcosa per la testa da un po' di tempo. Ce ne sono tante cose sulla testa, perché riuscire a trasferire un'emozione che io ne ho continuamente, ho la fortuna di, 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 di vedere, anche attraverso questo lavoro, di conoscere delle belle persone, interessanti, belle persone, interessanti. Piuttosto che delle culture diverse, degli spazi diversi. E sarebbe, per me, sempre stimolante trasferire in tridimensionale un'emozione che provo. Non sempre puoi, non sempre c'è tempo. E... Stiamo lavorando attraverso, stiamo lavorando su alcuni progetti, sì. Quello sì. Poi per scaramanzia non si dice, è... Non mi guarda. Ferro. Non è anche facile. Ancora progetti che riguardano il mondo? Beh, c'è... C'è una figura che è da due anni, due o tre anni che ci sto pensando, e che non è venuta fuori, lì che aspetta e... uscirà, prima o dopo. Uscirà. Ho fatto un concorso a questo progetto qua, poco tempo fa me l'ha imbocciato. Peggio per loro. Arrà fuori il momento giusto. Sì, quando sarà ora, arrà fuori. L'esposizione delle opere rimarrà anche fino a tutto sabato, che c'è un candy cantina promosso dalla strada del Prosecco, per cui se volete tornare a vederle, ammirarle, se volete mandare i vostri amici, sapete che potete farlo. L'emozione che ci ha dato Giovanni... Non ho finito. No, lo so che non hai finito, ma... È grandissima. Anche lui non è ancora più. Mettando la pioggia. No, sapete, no, è una cosa, veramente grazie che siete venuti, chi conosco, chi non conosco, e... Cazzarola, eh. Non è in faccia, è bello, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Io posso dire una cosa? No, 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 no. Adesso sono sicuro che non piove più, e quindi... No, no, no. A me sta a cuore, come dicevo prima, il Sufi, però ci sono altre due sculture che mi stanno tanto a cuore. E sono quelle due scarpine che avete visto dentro. E sono le scarpine di Carlotta. E volevo ringraziare Giovanni, davanti a tutti, ma volevo veramente ringraziarlo di cuore, perché quelle scarpine sono tornate a volare e a danzare. Grazie, Giovanni. Comunque, comunque, Gino Valle, che è stato un straordinario docente di architettura di Venezia, diceva che da soli si fanno solo le pugnette. Qua state parlando di Giovanni, però Giovanni non è da solo, nel senso che io ho delle persone che mi aiutano. Ringrazio Selene che è qua stasera, che lavora con me ormai da otto anni. C'è anche un'altra persona che non è potuta venire qui stasera e che mi aiuta nella parte più fisica e che sono due, altri due straordinari compagni di viaggio. Belle scarpine di Carlotta, sono state una bella fatica, comunque. Una bella fatica a riuscire a rimettere sulle scarpe quella ragazza che è stata musa oltre che modella e che adesso è ritornata a danzare, perché per un periodo non poteva danzare. Ma in quel caso, non lo so, ci sono alcuni galleristi o critici d'arte che mi hanno detto che non sono abbastanza artista perché l'artista si vede, ha uno stile. Io credo che ogni, per quanto mi riguarda, avrà ragione, non lo so, però non riesco, io per quanto mi riguarda ogni tema che provo ad dannizzare, che provo a studiare è l'opportunità per studiare una tecnica nuova di lavoro e questa tecnica a volte comporta il fatto che magari in alcuni casi riesco a fare più sintesi, in alcuni casi sono ancora forse molto accademico, forse abbiamo bisogno di metterci alla prova quanto riusciamo ad arrivare al vero. In quel caso, anche se nella scultura contemporanea la sintesi è fondamentale, io sono contento di aver fatto quella scarpina che poi vedete qui dentro. Sono due posture, hanno anche due nomi che non mi ricorderò mai e che sono molto affigurative, sono un 38 usato. e c'è qualche cenere interno, lo vado a provare. Ma c'è il principe che poi lo raccoglie. Qualcato, curiosità? Quanti gradi fare il Prosecco? L'emozione che ci avete dato questa sera è veramente tanta, l'emozione che le opere di Giovanni trasmettono è bellissima. Io, se voi volete, possiamo concludere questa serata, passare all'altro protagonista di questa serata, che è il Prosecco Superiore. Io vi ricordo anche che il progetto di Dream potete seguirlo poi su Facebook, lo comunicheremo nella nostra pagina, in quella di Giovanni. Io spero che vi siete emozionati anche voi questa sera. Vi ringrazio tutti di essere benvenuti, ringrazio Giovanni, ringrazio Cristina, ringrazio Andrea, ringrazio tutti quelli che ci hanno dato una mano a organizzare questa serata. Vi saluto e vi auguro un buon brindisi e buone chiacchierate con l'artista. Giovanni? No, scusate un secondo solo. Se faccio il suo lavoro, se non vi piace, se vi dà fastidio come interpreto il ferro, così prendetevelo col signore, lei è causa sua, che è mio padre, è causa sua se faccio il padre. Adesso si vede che è in pensione. Tale padre, tale figlio, no. Ci aveva promesso anche... La tartaruga è la tartaruga. Vedremo con la pensione cosa succede. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.